I premi, non ti preoccupare, ma che stanno a buttare un canale? Nooo, vabbè ragazzi Lo sai che mi devi buttare? Botta sto cazzo! Sto cazzo devi buttare! Sto cazzo devi buttare! Hai capito che devi buttare? Fatti una vita, fatti una vita Ti devi fare una vita, hai capito? Ma no che! Ma che è peggio? Ma cosa è peggio? Ma che cazzo te botti? Tipi di dimensioni Ma cosa botti? Shhh Shhh Fatemi dire Ho vedi questo? Con questo te lo sto, te lo sto E con questo te lo sto E con questo te lo sto E con questo torbiamo a andare a fanculo Che è il bot? Ha capito? C'è ancora, come si chiama? Bubblegum che dice un panno di filo, di psicologo Max Proietti Max Proietti Come far decadere un'immagine ben costruita Look max usata In dieci minuti È tutta una gag ragazzi In dieci minuti È mai a gag They're good They're good